Muoversi, Infomobilità in Campania Sulla 2 del Mediterraneo sino al 30 novembre per lavori di manutenzione ordinaria nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 è istituito il restringimento di careggiata tra le uscite Salerno Centro e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni ed in tratti saltuari. Sulla 3 in Napoli-Salerno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori è chiuso lo svincolo Castellamare di Stabia in ingresso e in uscita in direzione Napoli. Sulla 16 in Napoli-Canosa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori è chiuso lo svincolo Avellino-Ovest in ingresso e in uscita in direzione Canosa. L'entrata alternativa consigliata è lo svincolo Avellino-Est mentre l'uscita alternativa consigliata lo svincolo Baiano. Sulla strada statale 145 Sorrentina dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori è chiusa la Galleria Santa Maria di Pozzano in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità urbana del comune di Vico e Quenze. In chiusura la tangenziale di Napoli che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani è chiusa per lavori allo svincolo zona ospedaliera in uscita in entrambe le direzioni. Dalla redazione Muoversi in Campania, Nunzia Acanfora.